...con il numero 7, Imbriani, con il numero 8, Iguori, con il numero 9, Bonino, con il numero 10, Menolaccia... ...con i cari, Cessia, De Palma, Passaro, il signor Sommati di Passaro del Trata, Guardarile, Chiari, Inter e De Palma... ...invitano gli spettatori a ritare l'arco di un partito di un feste all'interno del terreno di gioco. ...con il numero 8, Iguori, Chiari, Inter e De Palma... ...con il numero 8, Iguori, Chiari, Inter e De Palma... Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 a tutti.